Ciao a tutti, come gestire le conoscenze online? Prima di affrontare questo tema, però, iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Capita sempre più spesso oggi di incontrare, di conoscere persone online, nelle varie chat che oramai sono diffuse un po' dappertutto. E capita anche più spesso, sempre più spesso, che poi questi incontri, diciamo, generino delusioni, perché magari dalla chat passi a Whatsapp dopo un po', però poi questi contatti, spesso alla fine dopo un po' di messaggi, si perdono, diventano di meno, la persona non ti scrive più, e allora come gestire questa situazione? Allora, bisogna tenere presente questo, che ovviamente le persone che abitualmente, diciamo, frequentano le chat hanno comunque tutta una serie di contatti online che sono parecchi, quindi, e necessariamente viene fatta una prima scrematura, diciamo, vengono passati gli uomini e le donne al setaccio dai primi messaggi e poi alcune persone, con alcune persone si portano avanti, con altre persone non si porta più avanti e può capitare che ti trovi nella situazione in cui magari a te può interessare una persona, magari sei donna e questa non ti messaggia più. Allora, come si può gestire questa situazione? Come può riaccendere, diciamo così, il tipo di interesse di una persona in queste situazioni? Beh, se te sei interessato ad approfondire, diciamo, un'amicizia con una persona che non ti scrive più, o perché una volta ti scriveva, non ti scrive più, dove non ce n'è che è stata una conoscenza reale, fisica, questa conoscenza non si è manifestata, il modo più utile, diciamo così, è quello di non dedicare molte energie e molti pensieri a questa persona e utilizzare la tecnica dell'orbiting. Che cos'è la tecnica dell'orbiting? o la tecnica della goccia cinese, diciamo così, è quello di mandare tutta una serie di messaggi scadenzati nel tempo, ogni, normalmente può anche andare bene ogni 20 giorni, 21 giorni, se proprio si vuole fare, diciamo, dei messaggi semplici di saluto per vedere se prendere, diciamo così, il momento in cui questa persona magari si trova in un periodo in cui ha pochi agganci, perché chi non ti risponde più non avendoti conosciuto non è che lo fa per qualche motivo particolare, l'unico motivo è che in quel momento lì ha qualcosa di più interessante, soprattutto per i maschi, questo succede, ha qualcosa di più interessante o qualche conoscenza più profonda, per cui dedica meno tempo, meno spazio alle conoscenze online. Però siccome spesso questo tipo di conoscenze vanno e vengono, diciamo, nel senso che vengono fatte e poi si perdono anche abbastanza facilmente, se tu sistematicamente, ma non frequentemente, ogni volta, ogni due settimane, tre settimane, mandi un messaggino, magari con un link o qualcosa che può essere divertente, così, insomma, mandi un'esca e vedi quando c'è un aggancio, c'è una risposta. Questo lo mandi indipendentemente dal fatto di avere o meno risposta. È ovvio che se c'è risposta è evidente che questa persona magari in quel momento lì ha questa esigenza, però devi farlo ad energia zero, cioè nel senso senza dedicare assolutamente energia e vedere tutto succede nel tempo. Nel frattempo, ovviamente, porti avanti la tua vita, fai le tue cose, se ti interessa avere dei contatti online e continui ad averli, senza, peraltro, dare molta attenzione energetica, diciamo così, a questa situazione. E di solito succede che, prima o poi, becchi il momento giusto in cui l'altra persona vive un momento di vuoto e ci può essere un aggancio, poi qualcosa succede, succede, però questo è l'unico modo. Per questo video è tutto, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Tramasco, iscriviti al canale e iscriviti al nuovo canale Felicità e benessere di cui ti posto in link in descrizione. Ciao a tutti!